Ciciliano Calabria virtuosa nella lotta agli incendi, il capo della protezione civile conclude la tappa alla regione visitando la control room, fenomeno ridotto dell'80%. De Salazar è il becchino dell'annunziata, così Guccione che va giù duro nel corso del sit-in per un cambio di passo sulla gestione dell'ospedale. Consiglio regionale si riparte il primo dossier e il rinnovo delle commissioni, il rientro sugellato nella prossima conferenza dei capigruppo, per la maggioranza il nodo delle presidenze e le soluzioni per trovare la quadra. Chiusa a Sibari la tre giorni di Vinitalian de City, grande successo e apprezzamento per i vini calabresi nella splendida cornice del parco archeologico di Sibari, superate le 20.000 presenze. Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere, vediamo quali sono le principali notizie della giornata. L'avete sentito dai titoli, visita in Calabria del capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano, il numero uno della protezione civile ha visitato la control room della regione Calabria e valutato il sistema messo in atto a livello regionale nella lotta agli incendi e in generale ai reati ambientali. Vediamo il servizio di Stefania Scarfò. E' stata registrata una riduzione negli ultimi due anni e mezzo di circa l'80% delle azioni sconsiderate di mala gestione del territorio. E quindi è ovvio che se un territorio e chi lo governa riesce a ridurre una azione criminale in questa direzione ha vinto. Ora bisogna fare in modo che ciò continui e soprattutto che ciò inizi a diventare magari un modello esportabile. Così il capo della protezione civile Fabio Ciciliano nel concludere la sua visita alla regione Calabria per valutare il sistema messo in atto a livello regionale. Insieme al presidente della giunta Roberto Chiuto Ciciliano ha visitato la control room allestita in cittadella nell'ambito della strategia della tolleranza zero nella lotta agli incendi ed in generale ai reati ambientali. Particolarmente apprezzato da Ciciliano l'utilizzo dei droni la cui attività il capo della protezione civile ha potuto sperimentare in prima persona e in diretta dalla control room. Come ho detto in più di un'occasione non si possono cancellare gli incendi perché non si può cancellare la stupidità di chi incendia i boschi però quella sperimentata e ormai consolidata in Calabria è una buona pratica che siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione della protezione civile nazionale, ha suscitato interesse anche in Europa. Io sono particolarmente orgoglioso di poter dire che la Calabria dimostra in questo modo di essere capace di buone pratiche e di buone pratiche che vengano poi imitate. E parliamo ancora di incendi boschivi. Un bilancio è stato tracciato dal direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva. Sentiamo i particolari nel servizio. Migliaia di ettari di macchia mediterranea in fiamme, palazzi evacuati, rischi per fauna e persone. Lunga la lista dei roghi che anche quest'estate hanno interessato la Calabria dal nord di Cosanza fino all'estremità regina. Come ogni anno torna a far preoccupare le emergenze incendi nel periodo estivo sul territorio calabrese. Beh ancora diciamo è troppo presto perché siamo in corso d'opera si può dire, la macchina organizzativa è completamente impegnata in attività di spegnimento, di monitoraggio quindi ancora è presto per fare una sintesi di quello che è il fenomeno. Una prima stima è possibile farla grazie ai dati ISPRA aggiornati al 30 luglio. Nei primi mesi del 2024 la Calabria resta la seconda regione più colpita dai roghi per superficie coinvolta ovvero il 20% di quella complessiva nazionale. Tra le province più colpite d'Italia ci sono Cosenza e Reggio Calabria, dati che nonostante restino preoccupanti sembrano comunque in calo rispetto allo scorso anno. Droni, telecamere e controlli continui che hanno consentito di beccare fino ad ora oltre 150 persone intente ad appiccare il fuoco. Ma Calabria Verde naturalmente non è solo contrasto agli incendi boschivi. Un'azienda, un ente strumentale della regione che un po' a 360 gradi assicura la collaborazione alla regione, parliamo di lotta agli incendi boschivi. Stiamo partecipando anche come supporto all'attività di Mare Pulito, l'operazione Mare Pulito che è condotta sulle coste calabrese che insomma con l'impiego della nostra sorveglianza idraulica diamo un supporto anche per controllare la qualità delle acque. Quindi un impegno a 360 gradi che ci impegna in maniera importante. Parliamo di sanità e ci spostiamo a Cosenza dopo le dimissioni del primario del pronto soccorso e le immagini degli allagamenti in alcune aree dell'ospedale cittadino. Questa mattina il PD ha organizzato un sit-in davanti all'ospedale proprio dell'annunziata per chiedere al presidente Roberto Chiuto, commissario ad acta, un cambio di passo. Fabio Benincasa. Secondo me è dovuto alla gestione autoritaria e inconcludente del direttore generale de Salazzaro che non conosce la cosentina e calabrese e pretende attraverso atti autoritari di gestire il personale. E' duro il commento dell'ex consigliere regionale Carlo Guccione che fa parte del direttivo nazionale del PD questa mattina anche lui presente al sit-in organizzato davanti all'ospedale annunziata di Cosenza una manifestazione di protesta che prende avvio dalla volontà di proporre una petizione popolare per la riqualificazione del nosocomio Bruzio allagamenti, dimissioni, pronto soccorso sotto stress questi temi nel mirino da parte del Partito Democratico che chiede le immediate dimissioni sia del governatore della Calabria Roberto Chiuto che del direttore generale dell'azienda ospedaliera Abruzio a Vitaliano De Salazar. Dobbiamo sbloccare le assunzioni che sono già previste per l'annunziata e che non si fanno assorbire tutta la gradatura degli ossi ma quello che più ci preoccupa è una gestione inconcludente che sta portando alla chiusura, rischia di portare alla chiusura di intere le parti dell'ospedale di Cosenza e le migliori intelligenze se ne ne vanno via. De Salazar è stato rinominato da Occhiuto, De Salazar sta facendo il becchino dell'annunziata. E cambiamo argomento, il Consiglio regionale si prepara a ripartire dopo la tradizionale pausa di Ferragosto nei prossimi giorni dovrebbe tenersi il primo appuntamento di quella che si può definire la fase 2 della legislatura in Consiglio regionale, la conferenza dei capigruppo su convocazione del Presidente di Palazzo Campanella, Filippo Mancuso. Il servizio. La politica calabrese si prepara a riaccendere i motori dopo la tradizionale pausa di Ferragosto. Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi il primo appuntamento di quella che si può definire la fase 2 della legislatura in Consiglio regionale, la conferenza dei capigruppo su convocazione del Presidente di Palazzo Campanella, Filippo Mancuso. Diversi dossier rimasti in sospeso al momento dello stop estivo e ora da riprendere, tra questi sicuramente preeminente, il rinnovo delle commissioni del Consiglio regionale e delle relative presidenze. Un nodo politico da sbrogliare per la maggioranza di centrodestra alle prese con i nuovi rapporti di forza nati dall'esito delle elezioni amministrative ed europee e dal varo, da parte del governatore Roberto Occhiuto, di una nuova giunta a frutto di un rimpastino che politicamente ha detto qualcosa. Anzitutto il rinnovato e rafforzato asse tra Occhiuto e Forza Italia con Fratelli d'Italia e quindi un ruolo più marginale per la Lega. Allo Stato, infatti, la Lega può vantare quattro presidenze a fronte di sei consiglieri regionali, mentre Forza Italia vanta una sola presidenza a fronte di sette consiglieri regionali. Una sproporzione abbastanza evidente che Forza Italia avrebbe già segnalato. Adesso a Sibari, dove si è conclusa la tre giorni dedicata ai vini calabresi. Un successo per Vinitaly and the City, nella splendida cornice del Parco archeologico di Sibari, dove si sono superate le 20.000 presenze. Il servizio. Si chiude Vinitaly and the City qui a Sibari in Calabria, il fuorisalone della Fiera Internazionale del Vino. Per la prima volta Verona Fiere ha deciso di provare un'esperienza assolutamente diversa, ovvero organizzare questo evento lontano dal Veneto, lontano da Verona. Un meraviglioso azzardo, così lo hanno definito il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. Aggiungiamo noi un meraviglioso azzardo riuscito, perché in tre giorni si sono superate le 20.000 presenze qui a Sibari. Tanti turisti, tanti viaggiatori, tanti wine lovers, ma soprattutto la presenza di 100 cantine calabresi, 100 stand tra vini, liquori, distillati anche gli oli. Spazio per le masterclass, i talk, ma spazio ovviamente per i racconti di gusto, anche con le visite guidate ai meravigliosi scavi archeologici di Sibari, quelli che 11 anni fa sono stati completamente avvolti dal fango con l'esondazione del Crati e che oggi rivivono con un New Deal impresso dalla Regione Calabria, con una nuova narrazione, un nuovo racconto della nostra Regione, che in questo caso avvenita all'Indesiti ha legato il cibo, il vino, ovviamente il territorio, la storia, la cultura e l'identità. Un successo che vi raccontiamo anche con le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo e ovviamente con i produttori di vino calabresi. Facendo un giro con i produttori, facendo qualche foto, sentendo anche il loro umore, c'è tanta soddisfazione, c'è tanto entusiasmo anche da parte dei produttori. Hanno pensato e ritenuto che questa sia stata un'ottima manifestazione, che vogliono anch'essi ripetere e da migliorare anche in qualche aspetto, in qualche particolare, però penso che il saldo sia positivo soprattutto per loro e noi dobbiamo lavorare per loro e vogliamo lavorare per loro. I numeri sono favorevoli, positivi, noi guardiamo sempre avanti, piccole correzioni da fare, ma vuol dire che saremo ancora più pronti se si dovesse presentare qualsiasi altra opportunità, per il mondo vitivinicolo, per il mondo dell'agroalimentare, per la nostra storia, la nostra cultura, per l'attrattività del nostro territorio. Vini Italy and the City è stata una vetrina importante per le cantine calabresi, ma non si è trattato solo di spettacolo. L'evento è servito anche a far incontrare domanda e offerta, un momento di confronto per i produttori e di rivelazione per i buyer. Professionisti del settore che assaporano e scoprono le eccellenze calabresi, un incrocio di informazioni che apre alla possibilità di incrementare il business e l'export anche per le piccole e medie aziende di qualità che hanno così l'opportunità di farsi conoscere nei mercati. Ho il mio bicchiere di vino qui, che è un bicchiere di Gaglioppo e sono stato piacevolmente impressionato da questo vitigno, che mi è piaciuto molto. In Germania noi abbiamo il Pino Nero, ma penso che se questo mercato arrivasse sul mercato tedesco farebbe le scarpe a tutti i Pinot Noir possibili. È stata per me la prima volta in Calabria, spero di essere invitato ancora ad iniziative sul territorio calabrese e era un'occasione per me per spiegare meglio ai clienti tedeschi vini come questo e sono sicuro che come me si innamoreranno del Gaglioppo. Il tour è stato ben organizzato anche in uno stile italiano da cui un po' di relax, di godimento, da cui sicuramente noi abbiamo tanto da imparare e scusate adesso devo andare perché voglio assaggiare ancora più vini. E da Sibari a Montalto Fugo, sempre nel Cosentino, dove si è conclusa la 22esima edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, che ha registrato un alto numero di spettatori. Applausi ed emozioni per il concerto che si è svolto sul sagrato del Duomo della Madonna della Serra. Vediamo il servizio. Ha chiuso i battenti a Montalto Fugo la 22esima edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, un festival che ha fatto registrare un gran numero di spettatori affascinati dal mix vincente di una manifestazione che guarda la tradizione ma che è stata rinnovata nella sua struttura. Sotto la direzione artistica del maestro Antonio De Luca, l'edizione è stata in grado di attrarre intere generazioni. Tra gli appuntamenti più graditi, il concerto che si è svolto sul sagrato del Duomo della Madonna delle Serra, con la magistrale performance dell'Orchestra Sinfonica Abruzzia diretta dal maestro Monsignor Marco Frisina, che ha incantato il pubblico e coinvolto gli spettatori in un viaggio musicale dal titolo Immagini dell'Anima, che ha attraversato tante delle sue composizioni per il cinema, colonne sonore di film dedicati a personaggi biblici, così come ai grandi pontefici della storia, ma anche a personaggi della nostra storia e cultura, da Puccini a Maria Callas e Daciano. Suggestivo l'accompagnamento delle 100 voci del coro regionale Corus Inside Calabria, diretto dal maestro Natale Femia. Apriamo la pagina dello sport, arriva la prima vittoria stagionale per il Catanzaro, che supera 3-1 al Ceravolo la Carrarese dell'ex Antonio Calabro. Gara senza sbavature per i giallorossi che arrivano alla sosta per le nazionali con 5 punti in classifica, così mister Caserta a fine gara. Credo che oggi la vittoria sia ampiamente meritata per quello che hanno fatto i ragazzi durante l'arco dei 90 minuti, a saper leggere la partita, i momenti, siamo andati in vantaggio, dopo abbiamo subito gol, la squadra ci ha creduto sin da subito e ha cercato in tutti i modi di andare di nuovo in vantaggio. Sono contento perché non era facile un momento, sai, quando non arrivano le vittorie poi inizi a vedere tutto nero. Io sono abituato a cercare di vedere sempre, quando le cose vanno male, di guardare i lati positivi. Io gli ho detto ai ragazzi che a volte le sconfitte valgono più di un pareggio perché il pareggio ti nasconde certe cose, certi limiti. Forse la sconfitta di Cesena ci ha fatto bene dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia che dobbiamo sempre mettere in campo ogni partita. E strappa un punto dalla trasferta di Palermo invece il Cosenza che torna a muovere la sua classifica dopo la pesante penalizzazione che aveva portato i Lupi a ripartire da zero. Mister Ralvini è soddisfatto della prestazione della sua squadra. Alla fine della partita il risultato è giusto ma lasciamo due punti perché potevamo portarla a casa nel senso che se prendiamo gol sul calcio d'angolo dove Mazzocchi la salva sulla riga non posso dire niente ma quando prendiamo gol a difesa schierata su un fallo laterale lì è un particolare che possiamo e dobbiamo migliorarlo non è un errore è un miglioramento che possiamo e dobbiamo fare perché quello poi ci complica la partita perché poi il Palermo la può vincere se insegnano la tira alta e torniamo a casa se è lì come domenica scorsa a Mantua non va bene però la prestazione, l'atteggiamento l'idea che abbiamo messo in campo qua stasera contro una grande squadra è un'idea positiva Abbiamo terminato grazie per averci seguito dalla redazione una buona continuazione di serata Grazie a tutti